Bellissima stazione conneglia, no? Comunque vedete come sono le regole, la rossita e qua si entra, stazione conneglia, che bello, vedete quanto è cambiato, sto proprio da solo, non sei nessuno, ti rendete conto, ti saluto a tutti quanti, questa è bellissima, cara mobile, ha i treni, ciao superpefranco, ciao le torameglia, ciao le DM, ciao a tutti quanti, quella non funziona, andiamo, andiamo, perfetto, entrata tra metro, ciao a due drink, mamma mia, questa cara mobile è bellissima, vedete come questa bella stazione, è magnifica, come passa subito, la cara mobile è rotta, dobbiamo andare a di qua, cambio cara mobile, bene, ti voglio tanto bene, Costantino Rusi, vediamo troppo alla live, ciao a tutti quanti, ciao a tutti il freno, bene, vedete, cambiamo, questa è l'ultima cara mobile, che rumore, sto indossando la maccherina, questa cara mobile è troppo vuota, che bello, vedete l'alassi, che spettacolo, sono troppo da solo, sei poche persone, molto a poco, piccolo filmato te la metto, mette fatto il biglietto, come passa subito, vedete l'alassi, non è qua, sta sotto ancora sui cale, eccolo qua il biglietteria, eccolo, vedete l'alassi, Grazie.